Musica La memoria non è affidabile No, 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 veramente, la nostra memoria non è perfetta e potrà dire a volte, chiedere alla polizia persino un testimone oculare è inaffidabile Vengono anche privati del loro libero arbitrio Da lei, ma di una cosa di sinistra Che la vita è come la scala di un pollaio corta e piena di merda che ti sgocciola addosso Ma perché, perché non è possibile cogliere Dio coi propri sensi? Dici, ma la vita è come la scaletta di un pollaio corta e piena di merda Sonia, e se Dio non esistesse? Boris Dimitrovic, stai scherzando? E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione? La vita è uguale a una scatola di cioccolatini Non sai mai quello che ti capita Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!